La ventunesima giornata di Serie A si chiude con la Juventus in campo, archiviata la Coppa Italia, la testa torna al campionato con una partita tosta. Non possiamo sbagliare, bisogna tornare a fare punti. Un'occhiata ai protagonisti, ci siamo, e allora via, si parte. Buon divertimento con la Salernitana Juventus, la ventunesima giornata, il campionato di Serie A. Concentrato l'attaccante serbo, l'arbitro non vuole nessun giocatore all'interno dell'area del momento della battuta. Vlaovic, Vlaovic, la Juventus è in vantaggio, rigore perfetto, un bacino al palo, battuto Cioa, più avanti, 1-0. Di Maria, prova al tunnel, passa in qualche modo, Di Maria, sempre lui, palla larga sulla destra, verso Rabiot, mancinata dentro a cercare Kostic. Vlaovic, con calcio arriva, Kostic, il raddoppio della Juventus, Filip Kostic, la zampata giusta, andare a prendere il tempo. A Ghisselmo Cioa, e allora prima del 45esimo, secondo con il campionato per Filip Kostic. Balfideo, l'argentino, vuole rientrare sul mancino. Di Maria, rasotterra per Rabiot, Rabiot ancora per Di Maria, dentro a cercare Locatelli. Occioa, ci mette le manone, calcio d'angolo. Nicolussi, rientra sul destro, palla sbagliata, Fagioli, break della Juventus, Fagioli dentro a cercare Vlaovic, Vlaovic, Vlaovic! Dusan Vlaovic! È una festa tutta serba, qui alla Rechi, gran palla dentro di Fagioli, col perfetto di Dusan Vlaovic, che va a battere Ghisselmo Cioa, parte benissimo la Juve, anche nella ripresa al secondo minuto del secondo tempo, 3-0. Dusan Vlaovic! Attenzione al lungo lancio, cercare Vlaovic, Vlaovic va all'aggancio, arriva Di Maria, Di Maria di Morco, Di Maria! Traversa piena! Traversa clamorosa del Fideo! Zambia al cross in mezzo, Rabiot a campanile, occhio all'inserimento di Nicolussi, colpo di testa di Danilo, palla che rimane lì, spizzata, adizione sinistro e palla fuori! Locatelli, col mezzo esterno a cercare Vlaovic, Vlaovic ha la meglio su Trostecong, Vlaovic in mezzo a 3, attende l'arrivo di Chiesa, Vlaovic viene servito Federico, Chiesa, Chiesa, Chiesa! Sopra la traversa, vicino, al ritorno al gol, in Serie A, Federico Chiesa! Prova a far ripartire la Juventus Federico, attenzione perché vuole il costo costa, Chiesa, ne ha 3 di fronte, Chiesa ancora, punta la porta, Chiesa dentro, cercare Ken, Ken, Ken! Ken, palo pieno, il secondo legno della Juventus in questa gara, dopo la traversa di Maria, il palo di Ken! Finisce qui la partita, la Juventus sbanca l'arecchi di Salerno, batte 3 a 0 la Salernitana a domicilio.